Italia! Uno! Dai, fai sto te! Sì, fare a te! E' ancora piazzato a queste foto! Ciao, sono qualcuno si sa! Oggi sono grande, grande, grande faccio del prezzo! E' un grande pregatore! Sì, saldici, no! Ho fatti filmare lì per trovare tutti, ancora poi Fideruncia! Ma perché in Egitto non ci sono quei filtri, quei la circolari, ma tu dici che è meglio così? Ma si vede dentro te? Filiato! Guarda, risposta! Scusa che roba! Come vedi qua c'è tante tisanna! Come vedi questo andare, il pane sotto, lavo, torno, lavo, torno! Ah, capito, non c'è voglia! Fatica! Vedi, ti assumo, una persona solo per togliere il piede! Vedi? Vedi, anche lui mangia un po' di menta! Non fa mai! Non fa mai! Menta! Tutta la gente oggi... Magari ti rimane tra i denti la cosa, sorridi! La femmina di... Fella di Giovanni, Maria Giovanna! Tutta la gente oggi è venuta! Maria Giovanna, che è questa Maria? Ma questa Maria è in giro per tutti! E che è questa Maria Giovanna? Che è questa Maria? E che è questa Maria? Che è una strossa! Andare per tutti! Tutti... Tutti... Tutti donne... Moschi... Cerca questo! Anche cerca questo... Femmina... Non volete moschi anche! Ma che è questa Maria? Se non lo so il teatro... Se non lo so il teatro... Io... Tu conosci lei? Conosci Maria? Conosci Maria? Ti ha chiesto se si conosci Maria? Ma Maria che... No, ma io Maria non conosco Maria... Ma Maria Giovanna? Sono una chima di Maria Giovanna, guarda! Ma questo... Ma questo... Giovanna... Ma per una canzone faceva Maria Giovanna... E' un articolo... Grazie! E' un articolo! E' un articolo! Grazie! Grazie!